mi interessa sottolineare l'aspetto più pericoloso l'idea che la comunità sia una forma di riduzionismo di riduzione visto che non va più di moda parlare di massa non va più di moda parlare di mercati in termini generali è vero che molto tempo abbiamo preferito parlare di target piuttosto che di personas il rischio è di ridurre il concetto delle comunità ad una formuletta essa stessa la verità è che ci stiamo da troppo tempo allenando a esercitare circuiti corti a mettere sempre tutto dei pensieri corti a non metterci mai nella condizione di guardare appunto la complessità e molto spesso anche la complicatenza per fare cose prima di tutto che cosa significa mettere in comune delle cose significa aver bene in chiaro il fatto che in questo periodo in questo momento ma è parte di tutta la storia umana agiamo tutti quanti in uno spazio comune condiviso sempre questo spazio comune condiviso ha delle proprie caratteristiche legate soprattutto all'idea di appartenenza che cosa ci accomuna che cosa ci appartiene tutti insieme che cosa vogliamo condividere e poi ad un altro fattore centrale che è quello dell'impegno su cosa siamo disponibili ad impegnarci tutti insieme sottolineo quel tutti perché lo sostituirei al pronome noi noi già una bellissima idea di collettivo di agire in comune ma la verità della questione è che le comunità sono dei sistemi aperti ma che coinvolgono tutti coloro che gli appartengono quindi usando una figurazione anche un po forzata direi che la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è pensare e scrivere in quarta persona sappiamo tutti che i verbi si coniugano in tre singolari i pronomi sono tre singolari più plurali io suggerirei di aggiungere un quarto una quarta persona che è il tutti che vale sia come singolare che come plurali in quarta persona possiamo appunto meglio agire tutti in uno spazio in uno stesso spazio comune possiamo sforzarci di credere in un mondo non ancora presente possiamo soprattutto impostare quello che figurativamente possiamo chiamare il pensiero delle cattedrali e ciò che manca di più al momento pensiero delle cattedrali era naturalmente una pianificazione ed una progettazione decennale era però l'immediata costruzione di una piccola cappella per fare in modo che la cattedrale iniziati subito a funzionare la prospettiva nel suo tempo allungato era una prospettiva poi appunto di pensiero lungo di progetto lungo